ciao sono lorenzo sono di milano e vivo a cork da oramai due mesi e lavoro con partnership international sono in irlanda per imparare il mio inglese e per provare un'esperienza lavorativa sono qua da due mesi più o meno ne devo far tre e per i primi sei settimane ho studiato in un college qua per approfondire migliorare il mio inglese prima di sbarcare in un ambito lavorativo allora il posto più bello che abbia visitato qua è stato cove è una piccola città che si trova più meno 30 minuti di treno da qua una città che dà sul sulla laguna l'importante ha avuto l'ultima sosta del titanico friendly city who live the wonderful people who try all time to help you the questa città immersa nel verde nel senso che proprio è circondata a tutti i lati da colline verdissime un verde proprio acceso un verde proprio verde speranza devo direi è bellissima è piccolina ma è veramente bella se la seconda città più grande portatevi obbligatoriamente una giacca e comunque dei vestiti pesanti perché qua fa sempre freddo non abbiate assolutamente paura o timore comunque di andare in un posto dove non sapete bene la lingua comunque dove non non vi sapete esprimere come il vostro paese per comunque in irlanda poi io sono stato accorto quindi non so esattamente a dublino o nelle altre città però vi aiuteranno sempre dai negozi alle indicazioni saranno sempre pronti a rispondere le vostre domande per in maniera cortese gentile anche se magari in inglese non sarà perfetto enjoy